Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su minecraft Questo è un nuovo episodio della vanilla Oggi come vedete dall'inventario Siamo pieni di picconi Appunto perchè dobbiamo andare in miniera Assolutamente Adesso vi faccio vedere una piccolissima minieria Al giornino Vedete che non ho aggiunto niente Perchè sto facendo tutti con voi Poi non sto giocando In questi giorni Ora vi faccio vedere quello che abbiamo fatto Abbiamo fatto questo piccolo santuario Che è carino, vedete La botte, vabbè dietro è brutto Ancora lo si Però hashtag mi piace Per chi gli piace Hashtag mi piace per chi gli piace Questo piccolo santuario Fatto molto velocemente E ora Andiamo a minare ragazzi Perchè comunque non ho Così niente Quindi sinceramente Sinceramente ragazzi Mi serve un po' di ferro Anche un po' di ferro E di carbone Allora abbiamo 17 torci Che non sono il massimo Però comunque Non le butti Quindi niente Andiamo tutto giù Io c'ho già la miniera Non personalizzata ovviamente Una miniera Che veramente è grande Quindi Cioè io là infatti ho trovato tutti i materiali Non proprio tutti Sì Però tanti ne ho trovati lì Ora ve lo faccio vedere Vabbè Penso che l'avete già vista Non lo so Adesso non me lo ricordo Pensavate che era quello Allora E' questa qua Mi piace? Sto scherzando Ho trovato un po' di carbone Ecco qua Ci siamo arrivati Vedete che è qua ragazzi Vi faccio vedere qua Guardate che è enorme Enorme E' veramente enorme Questa bellissima miniera Possiamo iniziare Magari Da qua Altezza 11 Ok qua Non ci vuole capire Ok qui Ci iniziamo Ok Chiudo Magari il piccone di ferro Che È un piccone Quello doveva servire Per rompere Magari Li Li belli E abbiamo già trovato qualcosa Loro Che non è il massimo Però comunque Che fai Non lo prendi Loro Eh no eh E' certo che te lo prendi Attenzione Non è neanche tanto poco eh Attenzione Quanto? Sette Va bene ragazzi Va bene Iniziamo abbastanza bene Ovviamente Non è chissà cosa Però comunque Io non me ne privo assolutamente Perché tutto quello che incontreremo Prenderemo Ok Altre Vabbè dai Chi sta eh La redstone ci va bene Perché non abbiamo neanche uno stacco Perché come vi ho detto Abbiamo pochissima roba Ci fa magari anche un po' di livelli Perché veramente Ci servono Quindi anche un po' di livelli Ce li da O C'è nel senso Ci da un po' di punti Per livelli Non il proprio livello intero Ehm Altra Qui Ok Siamo già con un po' di minerali Sette di oro E 46 di pietra rosso E quindi va bene Omega bene Cioè mega Va bene Ehm Per capisco perché uso quello più lontano Cioè il più lontano Il penultimo diciamo Uso il primo va Allora Questo episodio È dedicato Visto che è dedicato Al minerale Ehm Non posso farvi saltare le parti Perché Cioè Cosa dovete vedere Quando uno va a minare Che mina È solo Però Cioè penso che vi piaccia No no Quindi boh Perché non farli Dai raga Raggiungiamo 8 mi piace Per un prossimo video Ok vabbè Ci sta 8 like Ehm Perché vedo Che tutti i video Che ho fatto Di sta serie Perché le cacchio Non dimmi che ci sono i silver Anche se ci sono i silver Io me lo prendo Vai Silver Ah no È rallentissimo Per un attimo Vabbè raga Mi sarò drogato Che abbiamo già un po' Rotto tutto il piccolo Vedete che abbiamo già una stacca Ad ora non so se ne Inizio a prendere ancora Perché Boh Non lo so Penso di no Perché vorrei tenermeli Per diamanti Di ferro Ora Sempre se lo troviamo Queste cose qua Perché non è detto Ovviamente che Troveremo Queste ricchezze Boh Noi scaviamo Vabbè Stiamo trovando troppo Ora Cos'è C'è la mesa Cioè Anche per due blocchi Devo dare quello lì Ragazzi Ho troppo poco Cioè Dura troppo poco Questo piccone E siamo a 14 di oro Che allora Buono solo per farsi Le mele d'oro Infatti Tutti i blocchi O li Li trasformo Per Come si dice Per fare le mele d'oro Oppure per bellezza Non lo so Comunque ragazzi Sto episodio È pieno di oro Veramente Non c'è Non siamo in mesa Non lo siamo Non siamo assolutamente In mesa Se incontriamo Di nuovo horror Oh sì horror Se incontriamo Di nuovo horror Non so cosa dire Se Essere fortunati Sfigati Perché allora Non è Non è dire così Oh madonna Siamo già andati Vabbè raga Ok siamo nella mesa Non è vero Non lo so dove stiamo So solo che ci sono C'è troppo oro Veramente raga Non finisce E mi va bene Però forse Più o meno Non lo so Ma possiamo mettere Una miniera Piena d'oro Cioè veramente Stai calmo Ci saranno domani Cioè Metta stack Cioè Cioè Più o meno Metà ovviamente Dove siamo arrivati Mi sto già spaventando Ok Non lo siamo magari Però col piccone Magari invece Lo blocchiamo Qua dietro Cazzo Chi è? Ma sei là Vieni Ma vieni Che sei Bravo Lo scheletro Ho ucciso Il povero pipistrellino Per uccidermi E niente Non ce l'ha fatta No raga Ma è immensa Quello cos'è oro? Basta Allora Vediamo Se c'è un po' di ferro Ma qua non ce n'era So stupid Allora Di là non ci vado Mai nella vita Allora Ah no Ok Pensavo di essere stupido Raga Invece c'è un po' di ferro Effettivamente Perché Comunque Un ferro Ha dei materiali Più utili E più Facile da trovare Non è il più facile Ovviamente Se no Questo era Tutte le volte Mi succevo armature A gogo di ferro Cacchio Mi hai dato pure Tu il colpo forte Magari mi hai dato Il colpo potenziale Raga Allora Mangio più il pane Allora Vediamo Io devo stare nei paraggi Ma mi sa che vado a continuare A scavare Là Dove ero io? Mi sa che vado a scavare Raga Sì Perché io mi perdo In questi posti qua Magari ce lo esploreremo Bene in live Che non fa male Adesso andiamo di qua Dove sta? Ok Ecco qui Andiamo a scavare Da queste parti Assolutamente sì Allora torniamo Tutti indietro Che poi ci blocchiamo Malamente Quindi torniamo indietro Altezza 11 ora E qua E dove si può scappare Cioè andare via Oddio Scappare Allora raga Vediamo di qua Proviamo a scavare Di là Di qua Perché se vado dall'altro lato Li troverò con la caverna Allora Intanto qua Continuo a trovare Questo bellissimo ferro Che non fa mai male Mi accontento Ehm Raga tra un po' Stacco il video Perché affittivamente Mi ho trovato qualcosa Ma non tanto Oddio Ho trovato un botto di ferro Quello C'è ferro Un botto di D'oro Ma penso che abbiamo più oro Di ferro E l'oro Non è neanche così tanto utile Quindi non lo so Cosa dovrei dire Se Meno male o no E lo ridico E lo ridico Assolutamente Ehm Vabbè Saliamo magari Saliamo Vediamo cosa possiamo trovare Vediamo se troviamo diamanti Cose All'episodio Dai Fallo finire in bellezza No Non li troverò Raga Mi spiace Questo episodio E' pieno di Oro Ma non diamanti Neanche uno Manco morirci Se no è troppo Vero Minecraft Comunque l'episodio Lo faccio finire A quattro torce Nel senso che C'è a tre torce Dopo che ho usato Tutte queste tre torce Possiamo anche staccare L'episodio Perché Non abbiamo Più effettivamente Delle torce E allora Volendo Voli indietro Mi prendo il carbone Me lo crafto Perché appunto Mi porto adesso Do rimpare un po' di legno In caso serve Non lo so Vedo se poi mi serviva Però In caso Non la metto qua La metto qua Allora Due Torce Tonde Tonde Allora Vediamo Ok 14 E costo 30 Vedete Là ci sono passato Ok Quello l'abbiamo capito Ok di qua Blocchiamo qua magari per Non far andarci di là Non ci sbagliamo sicuramente Ok Vabbè ci sta Ci sta Abbiamo fatto uno stack Finalmente di Ehm Di red Vediamo Di usarci L'ultima eto torce Raga Non troveremo niente Però Ci proviamo Ci proviamo Che Vogliamo Allora Un po' di Call Ehm Lo prendiamo Sì Un pochino Sì Dai Se no Dobbiamo farlo un po' più rico Questo episodio Non lo prendiamo tutto Perché ce n'è due miliardi Di pezzi di carbone Però un pochino ce lo siamo presi Perché sinceramente Ci servono Anche a noi Ehm Anche a noi ci serve del carbone Ultima torcia Vediamo se con l'ultima torcia Troviamo l'ultimo Eh se Troviamo un diamante Dai Credo in te Scusate il mio rumore Quando mi arrivano le notifiche Così Non ci posso continuare Per sempre No Ok raga Come l'ultima torcia Ci ho fatto trovare La redson Che vabbè Scrivo Che è anche pieno di redson Va Allora Ci riproviamo Tutta la redson E possiamo Staccare Ci ha fatto due livelli Questa Cioè siamo andati in miniera Abbiamo fatto almeno due livelli Che veramente ci sta un botto Ehm Adesso possiamo anche andarcene da qua E abbiamo fatto anche un po' di stack di 18 Conto le due Due e 40 E' 40 più o meno Vediamo Due Sì è 45 Due stack 45 Che ci sta Ehm Abbiamo usato Tanti picconi Anzi due Sì sono così Cioè due Sono rotti Contando anche quello di Cioè Conto questo Anche quello di ferro Perché vedete che ormai Non ha più Usi Forse ha un uso E basta Perché è proprio rotto Malamente Ok Si inizia Già a entrare a vedere Casa nostra Lì col bel muro Vedete raga Abbiamo messo sto muro No Cioè sì Perché è bello Però questo qua Che non c'è Entra anche qua Per far vedere Che stiamo arrivando A casa nostra Allora Abbiamo preso 54 di Renson Ehm Uno stack di Renson 54 16 di carbone Ehm Minerali d'oro Che rispetto a cuocere Anche questo qua Ehm Poi tutta sta roba Abbiamo finito anche La cesta di sotto Perché io raga Ne avevo fatte tante ceste Perché appunto Non avevo spazio Quindi Ne avevo fatte tante Ehm Vabbè Di nuovo Dobbiamo Farci altre ceste Quest'altra ceste La possiamo mettere Una lì sopra Che ci sta Mi piace Non so perché Ma Lì a caso Proprio è carina Poi vabbè Facciamo così No Qua è brutta È bruttissima Qua dai raga Fa schifissimo Veramente Non so dove No Dai Vabbè 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 Poi possiamo Metterla Ah si Possiamo Metterla Qua Comunque Ora in quella Più vicina Ovviamente Lasciamo una roba Dov'è Ok lì Ci lasciamo Queste cose Che sono due Vabbè E niente Dov'è 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 Sta L'alto Forno Ah no Era giusto L'altro 4 di carbone Vabbè Scialla Poi mettiamo Questo qua 30 E poi Ci ha migliorato Un botto di Di redson E anche Di ora Perché ora Ne avevamo 4 Che sinceramente Non mi è plasa 4 Niente ragazzi Spero che il video Vi stia saluto Lasciate il like Scrivete Tira il campanellino Il vostro ragnetto Cari ragnetti Ragazzi Mi raccomando Il vostro ragnetto Vi saluta E niente Bella Ragazzi